Buonasera, è il giorno della morte di Giulio Andreotti, 94 anni, sette volte Presidente del Consiglio, sicuramente il politico italiano più famoso della seconda metà del Novecento, l'uomo che è stato variamente vissuto e commentato a seconda delle passioni politiche, a seconda dei momenti storici che abbiamo vissuto. E' stato il braccio destro di De Gasperi subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, negli anni dell'Albori della Repubblica, è stato l'uomo del centrismo, è stato l'uomo della censura sul cinema, è stato l'uomo di Gladio, è stato l'uomo che nel centro-sinistra ha ricoperto vari ruoli, è stato l'uomo del rapporto privilegiato con Gelli, è stato, lo sappiamo, soprattutto l'uomo del compromesso storico, i suoi, gli unici governi, prima di quello che viviamo oggi con il voto di non sfiducia e poi il voto favorevole del Partito Comunista, proprio nel periodo dell'offensiva brigatista e del sequestro Moro. Potrei stare qui a elencare tante cose che è stato Andreotti, soprattutto ovviamente l'uomo accusato di avere rapporti con la mafia, con Totorina, l'uomo che è stato messo sotto processo anche per i suoi rapporti con Cosa Nostra, l'uomo che è stato accusato di essere il mandante anche del delitto Pecorelli, il direttore della rivista OP. Si potrebbe veramente fare notte, ma non è questo lo scopo di un telegiornale. Ricorderemo sommariamente all'inizio del Tg chi è stato Giulio Andreotti e poi se ne parlerà in tutte le nostre trasmissioni, stasera a 8 e mezzo, a Piazza Pulita. Domani sera dedicheremo una serata al racconto di cosa è stato nella percezione di analisti politici e sociali diversi Giulio Andreotti. E lì sarà domani sera anche l'occasione per rivedere il film più importante e uno dei più importanti del resto della cinematografia degli nostri anni, cioè Il Divo e di Sorrentino. Ma fatemi dire che anche in una giornata così non si può dimenticare che ci sono tanti altri fatti, a cominciare ovviamente dalla difficilissima situazione che viva il Paese. Faceva l'impressione oggi di sentire analisi convergenti del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, del Presidente della Consob, che è la commissione che vigila sulle attività di borsa, e dai dati dell'Istat. La questione è il lavoro, è l'assenza di lavoro, è la difficoltà a ricreare un clima per cui si creino nuovi posti di lavoro. Anche di questo si occupa nella sua missione internazionale Enrico Letta, che in questi minuti sta raccontando insieme a Mariano Racoi qual è stato l'esito del confronto diretto del vertice ispano-italico che si è svolto appunto questo pomeriggio. Ma l'impressione è sempre la stessa, che bisognerà aspettare il vertice europeo, il duplice vertice europeo, ce ne sarà uno a fine di questo mese e uno poi attorno al 20 di giugno. Lì probabilmente ci sarà il braccio di ferro finale tra i fautori dell'asciuttezza di bilancio del rigore a tutti i costi cambifitanati dalla Germania. E di coloro i paesi che dicono che a questo punto l'aspetto fondamentale della convivenza europea è data dalla crescita e dalla necessità di attutire e di sanare il disagio sociale per quanto è possibile. Un altro punto dolente è la Siria. È anche controverso. Si è parlato dell'uso di armi chimiche, si è detto che forse era il regime di Assad a utilizzarlo, Obama aveva detto che non c'era certezza. Oggi la polemica sulle parole di Carla del Ponte, famosissimo magistrato svizzero da tempo dedito alle questioni internazionali, che ha detto no, sono i ribelli per quanto mi consta che usano le armi chimiche. Contestata e in qualche modo smentita proprio dall'organizzazione delle Nazioni Unite per le quali adesso opera. Ma resta che la polveriera siriana resta forse il punto più pericoloso del pianeta, anche per quello che potrà succedere. Sarebbe anche il giorno dei nostri sondaggi, ma a questo punto con tutte queste altre cose di cui parlare non resta che dare inizio al nostro giornale, che come sempre comincia con i titoli. Con la morte di Giulio Andreotti se ne va un pezzo di storia controversa del nostro paese. 94 anni, sanatore a vita, sette volte presidente del Consiglio, una carriera politica cominciata con De Gasperi nel dopoguerra, per 50 anni il simbolo del potere democristiano, tra luci ombre, misteri e segreti. Andreotti ha attraversato da protagonista le fasi più controverse della nostra democrazia, da Gladio fino ai rapporti con Gelli e la P2. Fu il premier del compromesso storico col Partito Comunista, l'interprete della linea della fermezza nel caso Moro, fu processato, prescritto, assolto per mafia e per la morte del giornalista Mino Pecorelli. Enrico Letta a Madrid con il premier spagnolo Racoy, due leader alleati in Europa contro la linea del rigore chiesta dalla Germania, serve una maggiore attenzione ai problemi sociali, al disagio e poi subito anche alla crescita. È la mancanza di lavoro, il male che affligge l'Italia, lo sottolinea il presidente della BCE Draghi, è una priorità per uscire dalla crisi, afferma parlando dell'assenza di crescita che genera disoccupazione. La linea anche del presidente della Consob, Vegas, il vero nemico non è più lo spread, ma è nelle imprese che chiudono, è nel lavoro che non c'è e dall'Istat altri dati allarmanti. Nel 2013 la disoccupazione cresce ancora e l'anno prossimo toccherà il 12,3%. Trattative e nuove polemiche, adesso per la guida delle commissioni parlamentari, poche ore dall'insediamento, venti incrociati tra PD e PDL sulle presidenze stesse, intanto il Movimento 5 Stelle rivendica la guida delle commissioni bicamerali, Vigilanza Rai e Copasir, ma otterrà quasi sicuramente la prima per il Copasir favorito, la russa. Dopo reide israeliani su Damasco, tensione altissima al confine con la Siria, le Nazioni Unite intanto smentiscono, Carla del Ponte, magistrato svizzero, membro di una commissione dell'ONU sui crimini di guerra in Siria, nessuna prova che i ribelli abbiano usato armi chimiche, non ci sono tracce ancora dell'inviato della stampa, Domenico Quirico. Tendenze confermate nel nostro sondaggio del lunedì, dopo la prima settimana di governo delle larghe intese, il centrodestra ha un PDL che cresce dell'1,3% e diventa il primo partito, 27,3% davanti ai 5 Stelle e che sono a 25,9%, il centrosinistra guadagna complessivamente lo 0,3%, ma il PD è staccato di 5 punti dal PDL. Buonasera, è stato tantissime cose. Giulio Andreotti, che è morto oggi all'età di 94 anni, tantissime cose, tanto che si potrebbe costruire su di lui un lunghissimo telegiornale. Abbiamo cercato di fare la cosa opposta, di riassumere nel minor tempo possibile cosa è stato Giulio Andreotti, le mille facce di quest'uomo che ha intrecciato la sua vita, la sua carriera, il suo potere alla storia degli ultimi 60 anni nel nostro paese. Quante cose è stato Giulio Andreotti? Il giovane ventottenne che spuntò accanto a De Gasperi nella Costituente e subito dopo nel suo primo governo, il plenipotenziario democristiano per il cinema, l'uomo più vicino al Vaticano, il ministro per tutte le stagioni, il super tifoso romanista, la comparsa ad eccezione nei film di sordi, il Russ che incontrò il famigerato Graziani a Arcinazzo, l'amico degli americani che serba il segreto di Gladio, il punto di riferimento di Licio Gelli e dei vertici piduisti, il crocevia del negoziato con i comunisti, il premier del compromesso storico, l'alfiere della linea della fermezza durante il sequestro Moro, l'interlocutore del direttore di OP, Mino Pecorelli e poi il mandante, secondo l'accusa, del suo omicidio, l'appassionato di Ippica, il senatore a vita, il perno del CAF, alleato con Forlani e Craxi contro Demita e il PDS, l'uomo delle battute fulminanti, idolatrato dal Bagaglino, il referente degli esattori siciliani Salvo, il capocorrente di Lima e Gioia, l'uomo accusato da Buscette e altri pentiti di rapporti con Riina, il Maxi imputato nei processi di Palermo e di Perugia, il candidato perdente contro Marini per la presidenza del Senato e chissà quante cose ancora, fino a essere l'anziano che declinando la sua salute ironizzava comunque sui prematuri annunci di morte, fino a oggi. Questo è tanto altro appunto Giulio Andreotti, questo è tanto altro, tanto che ne parleremo stasera nelle nostre trasmissioni, 8 e mezzo, Piazza Pulita e domani sera in una serata dedicata alla figura appunto del Divo che proprio con il film omonimo di Sorrentino si inaugurerà. Domani sera quindi il Divo e poi le testimonianze di tante persone che hanno conosciuto o studiato Andreotti. Ma le reazioni sono cominciate da subito, a partire da quella del capo dello Stato. La Camera dedica un minuto di raccoglimento a Giulio Andreotti. È per ora l'unico tributo pubblico per la morte del sette volte Presidente del Consiglio che ha voluto esequio in forma privata nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, a due passi dalla sua abitazione a Roma. Nessuna Camera ardente, il ricordo delle istituzioni è affidato a comunicati ufficiali. Napolitano inviò un messaggio alla famiglia, riserva alla storia il giudizio sul personaggio. Sulla lunga esperienza di vita di Andreotti e sull'opera da lui prestata in molteplici forme, nel più vasto ambito dell'attività politica, parlamentare e di governo, potranno esprimersi valutazioni approfondite e compiute solo in sede di giudizio storico, dice il capo dello Stato. Enrico Letta definisce Andreotti protagonista della democrazia italiana sin dalla nascita. Con lui, scrive il Presidente del Consiglio, se ne va un attore di primissimo piano di oltre 60 anni di vita pubblica nazionale. A ricordare quanto Andreotti sia stato al centro delle polemiche per le vicende politiche, ma anche per quelle giudiziarie, è Silvio Berlusconi. Contro la sua persona, la sinistra ha sperimentato una forma di lotta indegna di un paese civile, basata sulla demonizzazione dell'avversario e sulla persecuzione giudiziaria, un calvario che Andreotti ha superato con dignità e compostezza, uscendone vincitore, scrive il Cavaliere. Quello usato contro di lui è un metodo che conosciamo bene, perché la sinistra dell'odio e dell'invidia ha continuato a metterlo in campo anche contro l'avversario che non riusciva a battere nelle urne. Per questo, aggiunge Berlusconi, auspichiamo che agli anni della demonizzazione segua finalmente una pacificazione di cui il governo, appena insediato, possa rappresentare il giusto prologo. È stato un leader anche molto discusso nei diversi momenti della sua lunga esperienza politica e per la sua concezione del potere. Tuttavia non si può negare che gli abbia mantenuto aperto il dialogo anche con forze politiche lontane dal suo pensiero, dice l'ex premier Massimo D'Alema, che sottolinea come Andreotti abbia rappresentato la continuità del ruolo di governo e della centralità politica della democrazia cristiana. Trasciane, il commento di Giulia Sarti, Movimento 5 Stelle, via Twitter. È morto Andreotti, il condannato prescritto per mafia. Già tutte queste cose si può sicuramente commemorare l'uomo di Stato, il senatore a vita, l'uomo di governo di lunghissime stagioni, ma anche si può ricordare la figura controversa, come ha fatto seccamente su Twitter l'esponente Grillina. Ed altronde la sorte, la storia, quello che volete voi, ha voluto che si intrecciasse anche alla fine la conclusione della vita di Andreotti con quella di una donna che la verità su una storia che forse Andreotti conosceva meglio di altri ha sempre reclamato. Proprio questa mattina si sono svolti infatti a Palermo i funerali di Agnese Borsellino. Morta è ieri, la vedova del giudice ucciso 21 anni fa nell'attentato di via D'Amelio insieme alla sua scorta. Ha lottato fino all'ultimo con quella mite tenacia che le è stata conosciuta e riconosciuta. È anche oggi che si parla di un'altra figura scomparsa. È giusto ricordare lei nel giorno appunto dei suoi funerali. Poco fa si è conclusa a Madrid la nuova missione europea di Letta. Si sta cercando di mettere col premier del nostro nuovo governo qualche paletto in più su quella che sarà verosimilmente una battaglia tra i paesi più in difficoltà come il nostro e quelli che stanno meglio in Europa a cominciare dalla Germania. L'alleato naturale, spiace dirlo per tutti e due i paesi, nella difficoltà comune appunto è la Spagna. Con quest'ultima stretta di mano Letta ha riunito l'Europa in pochi giorni in nome della crescita e contro l'austerità. Dopo Berlino, Parigi, Bruxelles, il presidente del Consiglio ha infatti volato a Madrid per incontrare il primo ministro Racoy, peraltro già contattato al telefono prima del tour precedente e con lui ha affrontato ancora una volta in vista dei due vertici UE di fine maggio e fine giugno i malesseri che tormentano l'Europa. Leggi i crisi dell'economia, conti pubblici che non tornano, con la disoccupazione che continua a spolpare tutti i paesi dell'Unione. Ma con un obiettivo, questa volta ben preciso, trovare un nuovo alleato con cui fare muro alle tesi tedesche dell'austerity a oltranza, in sostanza mettere un freno alla linea rigorista della Merkel che ha dominato finora. Perché la strategia europea è il pilastro principale del successo del nostro governo, appena nato. È un governo che vince se riesce in Europa a ottenere dei risultati che consente ai nostri cittadini di vedere l'Europa non come una matrigna, di vedere l'Europa non come portatrice soltanto di notizie negative. Anche se è ribadito Letta, sarebbe un errore ostacolare la Germania nel prossimo Consiglio come fossimo in un match. Una linea, secondo Voce Interna al PP, che dovrebbe sposare anche Racoy, finora allineato con Angela Merkel nell'indicare la riduzione del deficit come la priorità della legislatura. Ma probabilmente Letta e Racoy hanno anche rivolto un pensiero a quell'Europa politica che sembra parlare una lingua diversa da quella delle statistiche e che infatti ha concesso due anni in più a Francia e un anno all'Olanda per centrare l'obiettivo di deficit. Per ribadire insomma che in Europa tutti i paesi hanno diritto allo stesso trattamento. E già questo è un monito che arriva dai paesi in difficoltà del sud Europa alla Germania. Ma la questione di fondo è che non passa giorno senza che ricette, diagnosi e dati di evidenza statistica confermino come l'emergenza lavoro si fa la priorità delle priorità. È indubbio che una crescita duratura sia condizione essenziale per ridurre la disoccupazione, in particolare quella giovanile. In alcuni paesi europei questa ha raggiunto livelli che incrinano la fiducia in dignitose prospettive di vita e rischiano di innescare forme di protesta estreme e distruttive. È la disoccupazione la grande emergenza che oramai unisce tutti in Europa. Tema forte e non è certo un caso che oggi Mario Draghi ne abbia parlato nella sua Alexio Magistralis alla LUIS, l'università targata Confindustria che gli ha conferito la laurea honoris causa per il suo ruolo di primo piano nella politica economica europea. Il presidente della Banca Centrale Europea dice chiaramente ciò che si aspetta dal nuovo governo appena insediato a Palazzo Chigi. Bisogna mitigare gli effetti recessivi del risanamento dei conti, afferma privilegiando la riduzione non solo della spesa pubblica ma soprattutto delle tasse. Parla anche di politica monetaria Draghi e rivela che dopo aver portato i tassi al minimo storico dello 0,5% la BCE se necessario è pronta a tagliare ulteriormente il costo del denaro. Ma è il lavoro la vera emergenza. Un altro allarme arriva da Milano dalla relazione annuale della Consob, parla il presidente Vegas. Il nemico non è più lo spread ma il lavoro che manca basta con lo spettro dell'austerità senza speranza. Del resto proprio oggi dall'Istat arrivano nuovi dati preoccupanti con la disoccupazione che oramai viaggia ben oltre le due cifre, una emorragia inarrestabile che secondo le previsioni nel 2013 salirà all'11,9% e nel 2014 al 12,3%. Mentre tra marzo e aprile la cassa integrazione è salita di oltre tre punti tagliando il traguardo delle 100 ore e quella in deroga necessaria alle piccole aziende in crisi è crollata di oltre il 65%, ma non perché le richieste siano diminuite tutt'altro, la verità è ben più dura, non ci sono più soldi per pagarla. E i partiti che fanno discutono di lavoro? No, in questo momento discutono d'altro. Dopo la decisione sul governo, sui ministri, dopo la spartizione su viceministri e sottosegretari arriva la grande carica delle commissioni e delle loro presidenze. A poche ore dall'insediamento previsto per domani, PD e PDL litigano ancora sui nomi dei candidati alla guida delle commissioni parlamentari. In ballo ci sono 28 presidenze che i due partiti di maggioranza avrebbero deciso di dividersi lasciandone sei a scelta civica. Un accordo di massima che si sta avvitando però sulle candidature alle presidenze delle commissioni giustizia e lavori pubblici e comunicazione del Senato. Lì dovrebbero andare i PDL Nitto Palma e Romani, ex ministri di Berlusconi considerati indigeribili dai democratici. Uno stop che il PDL rimanda al mittente. Noi non abbiamo mai posto veti, vogliamo che le figure, le persone più competenti ricoprano il ruolo di presidente delle varie commissioni e la scelta sarà fatta in base alla competenza e merito. Certo la responsabilità da parte nostra non potrà essere infinita. Ingoiati i veti sul governo, il PDL ora non intende più cedere. Per il democratico Zoggia c'è ancora spazio per una mediazione. Dovremmo farci carico tutti di far partire le commissioni perché appunto si possono produrre quegli effetti positivi che il paese sta aspettando. Quindi una normale dialettica, una normale discussione ma mi auguro che già stasera i nodi possono essere sciolti e domani possono essere insediate. Non accetta via di mezzo invece il Movimento 5 Stelle che rivendica la presidenza dei cosiddetti organismi di garanzia alle commissioni bicamerali che per prassi vengono attribuite all'opposizione. Ci spettano Vigilanza Rai e Copasir, lancia la sfida al capogruppo, al Senato Crimi. Massimo sostegno sulla questione delle commissioni permanenti. Copasir, Vigilanza Rai è giunta per le elezioni. Nelle prossime ore vi aggiorneremo su quali sono gli sviluppi. Per dimostrare di essere l'unica opposizione, 5 Stelle in Senato stanno adottando anche una tattica di ostruzionismo con la richiesta continua del numero legale. Questa sera dovrebbe esserci la schiarita definitiva. Nello schema finale ruoli importanti avrebbero Anna Finocchiaro, PD che andrebbe agli affari costituzionali del Senato, l'ex ministro PDL fitto a quella della Camera. Altri due ex ministri, Damiano e Sacconi, sarebbero i candidati per quelle del lavoro. Casini sarebbe il prossimo presidente della commissione esteri di Palazzo Madama. Al Copasir starebbero salendo le quotazioni di Ignazio Larussa, di Fratelli d'Italia, con i grillini che si dovrebbero accontentare della Vigilanza Rai, che andrebbe al loro deputato Roberto Fico. Allora, riprenderanno a Milano i processi contro Silvio Berlusconi. Il caso media, 7 in corte d'appello già dopo domani, il Ruby 8 lunedì prossimo. Stamattina, dopo una Camera di Consiglio velocissima, la Cassazione ha respinto l'istanza di trasferimento a Brescia per legittimo sospetto di parzialità dei magistrati milanesi. I due processi, come noto, sono vicini a sentenza. E il PD? Il PD sabato prossimo deve decidere il dopo Bersani. Anche in vista di quella data ha fatto rumore, come era inevitabile, l'incontro a Firenze tra Matteo Renzi e Barca. Si incrociano a Firenze le strade di Matteo Renzi e Fabrizio Barca. Neanche un mese fa erano considerati il tandem cui affidare il destino del PD uscito acciaccato dalle elezioni. Più che rivali, alleati naturali. Il primo è interessato alla premiership, ma non alla conquista del partito. Il secondo, al contrario, è interessato proprio a ricostruire l'impalcatura politica di un PD dal nuovo profilo, leggero e di sinistra. Ma il futuro del PD è inciampato nel presente. Con il caos sull'elezione del capo dello Stato, ogni progetto è rimasto sospeso. Oggi, insomma, molto è cambiato, ma non tutto forse. Barca e Renzi si sono incontrati a pranzo, due ore a porte chiuse, uscite separate, bocche cucite. Sarà l'ex ministro della coesione territoriale più tardi a dare le coordinate di un loro possibile rapporto. Del PD sì, lui è un po' più giovane di me, quindi lui è nuovo veramente. Rispondo che ho detto, che vedo una complementarietà e vedo un comune impegno a lavorare nel PD. È proprio la parola complementari che riaccende i riflettori sugli orizzonti condivisi. Barca in tour per le sezioni PD, illustra il suo manifesto, discute di politica con la base. Renzi continua a tenersi lontano dalle alchimie del partito, ma al di là dei progetti futuri c'è una necessità che condividono per il qui ed ora, che il PD eviti l'esplosione. Se si spaccasse sarebbe un disastro, dice Barca. La tensione resta alta in vista dell'assemblea di sabato, chiamata a nominare un reggente che traghetti il partito fino al congresso d'autunno. I nomi in pista Epifani, ex segretario CGL per i bersagnani e Cuperlo, più caro ai dalemiani e ai giovani turchi. Spunta anche quello di Chiamparino, che sembra però tirarsi fuori. Non ho più la tessera da un anno, dice Secco. Sotto traccia si fa anche il nome di Vasco Errani, braccio destro di Bersani. Mercoledì la riunione del coordinamento con i segretari regionali, possibile che cambino gli scenari. L'obiettivo resta trovare un nome condiviso per evitare, in una fase così difficile per il PD, di affrontare un'assemblea al buio. Restano serie le condizioni del brigadiere Gian Grande, che come ricorderete senz'altro è stato gravemente ferito nella sparatoria davanti a Palazzo Chigi. Oggi ha parlato ancora alla figlia, che ha detto che il percorso di mio padre sarà lungo. Ringraziamo le istituzioni per la loro attenzione. Papà è vigile. Ora siamo fiduciosi. Speriamo in un miracolo. E poi ha aggiunto che il brigadiere sarà trasferito in una clinica, probabilmente a Imola, in Emilia, per la riabilitazione, perché possa riacquistare le funzionalità degli arti. Sappiamo che quella vicenda ha portato alla luce una forma di dipendenza, che forse è quella che ha portato sull'astrico Preiti, lo sparatore. La questione è, insomma, del videopoker e delle slot machine, da cui abbiamo fatto cominciare la nostra inchiesta, che oggi prosegue con quello che è un danno collaterale. Dove c'è una sala di videopoker, accanto c'è sempre un compro oro. Milano, Viale Certosa, al Civico 223, la sala gioco vincendo. Al 273 un compro oro. Stesso viale al numero 11, il Game Paradise, al 19, oro cash. Viale Gran Sasso, qui c'era un centro blockbuster, ora la sala videolotteri Las Vegas. Girato l'angolo, 100 metri, in Viale Abruzzi, ecco un compro oro. Stessa storia nelle altre grandi strade della periferia della città, come Viale Jenner e Viale Umbria. Facile capire come la Lombardia e Milano, oltre ad essere le capitali delle videolotteri, 1342 sedi contro le 1278 della Campania e le 1046 del Lazio, siano diventate anche quelle dei compro oro. Ma volerne scrivere i numeri, tutto diventa difficile. Se il mondo delle sale giochi nasce opaco pur passando da una concessione statale, quello dei compro oro non è più limpido pur transitando per ottenere la licenza dalle questure. I numeri non rispecchiano la realtà di quanto si vede nelle strade di ogni città italiana. Se ne sono accorti l'Associazione Italiana Antiriciclaggio, l'Aira, e quella degli operatori professionali dell'oro, che artigianalmente hanno completato una loro stima incrociando la lista ufficiale con quella ottenuta tramite Google Maps. E il risultato è questo. In Italia sarebbero 30.000, in Lombardia 453 quelli censiti, in realtà 7.000. Si fanno pubblicità così. E se all'inizio la loro attività capillare si retrodata al 2008 sembrava fossero un succedagno dei banchi dei pegni, in meno di cinque anni sono finiti sotto l'occhio della Guardia di Finanza e delle procure e la parola più accostata ai compro oro è riciclaggio. Le inchieste che hanno messo in luce i legami tra questa attività e la criminalità organizzata hanno nomi suggestivi. Fort Knox si chiamava quella delle fiamme gialle di Napoli e Arezzo, che a novembre hanno fermato un'organizzazione che in un solo anno, tramite negozi come questi sparsi in mezzo Italia, ha gestito 4 tonnellate e mezza di oro e 11 d'argento. Alla base della filiera ricompro oro, scambi di metallo prezioso contro denaro contante. Tutto avveniva senza uno straccio di ricevuta, di traccia, l'oro in nero. Come le cartolerie di fronte alle scuole, vicino alle videolotteri, compro oro. Ma qui non entrano solo i disperati dell'ultima fish, dell'ultima moneta, che impegnano l'anello o la catenina. Si trasforma in banconote di grosso taglio quello che viene razziato nei furti d'appartamento, nelle rapine, negli scippi. Entra anche denaro in contante per uscirne sotto forma di lingotto d'oro non registrato, fuso in laboratori illegali. Nell'ultima clamorosa inchiesta sull'andrangheta Milano, quella che ha visto l'arresto della loro assessore Zambetti. Personaggio chiave re Eugenio Costantino, uomo legato all'endrine calabrese, un esponente moderno della criminalità organizzata. Che parla e si presenta bene, scrive nell'ordinanza Ilda Boccassini. E conta, tra le sue attività, anche quattro compro oro, distribuiti nell'Interland milanese e intestati a familiari e prestanome. Vediamo il nostro sondaggio del lunedì, che conferma tendenze che abbiamo già visto nelle scorse settimane al rialzo, per usare il termine borsistico, per il centro-destra. Popolo della Libertà guadagna un 1,3%, 27,3%. Lega Nord perde lo 0,3%, si assesta al 4%. Fratelli d'Italia, lo 0,4% al 2%, 0,8% stazionari alla destra, come le altre formazioni di centro-destra, allo 0,6%. Totale del centro-destra 34,7% più 0,6%. Andiamo a vedere quello che succede nel centro-sinistra, dove flette dello 0,4% il Partito Democratico, 22,3%. A vantaggio di Sinistra Ecologia Libertà, 5,8% più 0,7%, il PSI stazionario allo 0,7%, altri allo 0,6%. Totale 29,4% per la coalizione di centro-sinistra. Movimento 5 Stelle, meno 0,2%, 25,9%. Andiamo poi a vedere che la scomparsa di rivoluzione civile, prima vediamo scelta civica, il centro, insomma, scelta civica montiana 4,4%, meno 0,4%, unione di centro più 0,1% all'1,5%, stazionario Futura Libertà allo 0,4%. Dicevo, la scomparsa di rivoluzione civile fa sì che nella sinistra ci sia, abbiamo già visto, la crescita di Sinistra Ecologia e Libertà, una flessione 0,8% per rifondazione comunista, Italia dei valori 0,7% più 0,1%, stazionario Verdi allo 0,6%, altri partiti 1,6%, meno 0,4%. Ressalta la stensione al 32,1%, che però è 2,4% in meno rispetto alla scorsa settimana, meno anche per la bianca, vedete, 3,2%, meno 0,7% e gli indecisi, 13,8%, meno 2%. La fiducia in Enrico Letta, in crescita netta, più 3%, a quota 44%. Come vai? Lo chiediamo a Masia. Beh, una fiducia comunque rilevante, anche perché ha il suo gradimento anche nell'elettorato di centro e di centrodestra e poi, insomma, credo sia legato all'autorrivolezza che pare aver dimostrato in questa settimana, soprattutto con i suoi viaggi all'estero. Cioè, mi pare che sia stato percepito come un leader credibile. Ma perché guadagna Letta e perde il PD? Non necessariamente le due cose sono correlate, perché il PD è un partito di centro-sinistra, mentre Letta, appunto, come dicevo, gode anche della fiducia dell'elettorato di centro, di centrodestra e anche di quelli che non vanno a votare, ma comunque lo percepiscono come un buon capo di governo, nonostante poi non esprimano l'intenzione di andare a votare. La devo salutare perché stasera abbiamo ancora una storia importante da raccontare. Ci vediamo ovviamente con Masia lunedì prossimo, perché la polveriera siriana vede aggiungersi un altro capitolo alla sua drammatica storia che dura da più di un anno di guerra civile. La controversia tutta interna alle istituzioni internazionali su chi ha usato le armi chimiche. Noi della Commissione abbiamo potuto avere delle testimonianze per l'utilizzo di armi chimiche, in particolare il gas nervino, ma non da parte delle autorità governamentali, ma da parte degli opponenti, dei resistenti. Questo il centro dell'intervista rilasciata ieri alla Radio Svizzera in lingua italiana da Carla Del Ponte, ex magistrato, amica di Giovanni Falcone, da più di vent'anni investigatrice di fatti di guerra. È stata infatti anche procuratore del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Non una voce qualsiasi dunque, ma l'ONU per cui la Del Ponte lavora proprio investigando sui crimini di guerra che si stanno commettendo in Siria, oggi l'ha clamorosamente smentita. Il tira e molla delle non conferme, dei traccheggi, dell'imbarazzo si è messo in moto quasi subito. Da Ginevra le Nazioni Unite hanno fatto sapere che non esiste nessuna prova definitiva che qualcuno in Siria abbia usato armi non convenzionali poco prima. Il segretario generale della Nato al riguardo invece affermava sappiamo che qualcuno le armi chimiche sì le ha usate, ma non sappiamo chi. Posizione questa praticamente identica sul tema a quella assunta dagli americani. Tre versioni dunque dello stesso problema, compresa quella rivelata dalla Del Ponte. Eppure nelle ultime settimane più di una volta la comunità internazionale aveva alzato la voce contro il regime di Bashar al-Assad ammonendolo dal non superare la cosiddetta linea rossa, ovvero di non usare contro i ribelli alcuna arma non permessa dai codici internazionali e mai sino a ieri si era sentito parlare del contrario. Mentre continua intanto il mistero sulla sorte del collega della stampa Domenico Quirico sparito oramai da quasi un mese in Siria, la guerriglia ha diffuso le immagini dell'ultimo massacro portato a termine secondo l'opposizione dalle forze governative sulla città costiera di Ibaria, dove sarebbero morte oltre 140 persone, tra cui molti bambini. Intanto lungo la linea di confine con Israele e Libano, l'allarme resta alto dopo i raid aerei israeliani contro i depositi di armi siriane destinate agli Hezbollah libanesi. La Siria ha minacciato di colpire Israele se gli attacchi degli F-16 dovessero ripetersi, ma i cosiddetti venti di guerra nelle ultime ore sembrano sgonfiarsi di intensità. Il premier israeliano Netanyahu ne ha parlato oggi a Mosca con Vladimir Putin, Putin russo e quindi antico, alleato del regime siriano. Meno tensione dunque nell'area, anche se trattandosi di Medio Oriente, azzardare a previsioni resta sempre un esercizio pericoloso da praticare. Si tornerà questa sera a parlare anche di Andreotti, ma non solo. Tra l'altro, se aveva un cerchio magico, Andreotti era quello composto da evangelisti, Sbardella, Cirino Pomicino, l'ultimo sopravvissuto di quel cerchio magico, di quel vertice della corrente andriottanea, Cirino Pomicino, Paolo Cirino Pomicino, è ospite stasera di Piazza Pulita. Prima però, con Lilli Gruber a otto e mezzo, c'è il direttore di Repubblica, Ezio Mauro. Ci fermiamo. Allora, le borse. Oggi Milano ha perso lo 0,35 in linea con le altre piazze europee. Spread da 268. In questo momento a New York il Dow Jones guadagna lo 0,09 ed è sostanzialmente 13 punti sotto quota, 15.000. È tutto, otto e mezzo, poi Piazza Pulita. Buonasera, domani. Grazie a tutti.